... e questa volta verrà discutato su tre gare la montagna e la montagna e la montagna e riusci a curvare la vettura di fronte la montagna e la montagna il copio con l'imanuele Pizzarri di Ford Fiesta la WLC della Asta e Spin spiata della Coriococcia della Vicentina è un ladrino per una e il frattino e per il rinfo sulle gare a fondo E' arrivata il Cristo, questa è una ruota sulla terra che io posso vivere, e la polscia Scarra, questa è una barampia che mi ha messo nel punto il punto di vista della griglia Carriera, questa è una ruota sulla sinistra, se non mi era in giro come mi ha detto Noi, 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 noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.